Riproponete a noi degli schemi usati da partito o definizio. No, io faccio domani, non è senso. No, no, voi giornalisti. Devo uscire loro. Scusate, ragazzi. Cosa serve un incontro di Grillo con oggi? Un incontro con Grillo con oggi? Noi abbiamo programmato, non mi uccide con i microfoni, una volta al mese un incontro con lui. L'avevamo detto anche l'altra volta che c'è stato l'incontro a Tragliata per fargli vedere, toccare con mano come si lavora qui, per ovviamente continuare il rapporto con lui, visto che noi siamo un rapporto vicino con lui. Quindi di cosa si parlerà dopo? Di un po' tutto. La questione della diaria quanto incide nell'incontro di oggi, dopo anche la vicenda siciliana? Era già programmato, signori, scusate.